Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Oggi siamo all'interno di un'altra lettura di testo che oggi dedichiamo per la prima volta a San Tommaso d'Aquino. La dedichiamo perché questa puntata è il frutto di una collaborazione, come avete forse intuito dall'introduzione, è il frutto di una collaborazione con la proloco di Priverno, Fossa Nova. E per chi abbia una conoscenza della biografia tomista sappiamo che nell'abbazia di Fossa Nova è venuto a mancare e quindi è rinato al cielo San Tommaso d'Aquino. Per i santi antichi noi sappiamo che la morte era un avvenimento più importante addirittura del compleanno, quindi della nascita. Ed ecco allora perché noi qui oggi siamo e stiamo celebrando in questi giorni, la morte di San Tommaso d'Aquino si è venne il 7 marzo in questi giorni, quindi stiamo festeggiando, stiamo ricordando il pensatore di riferimento dell'intera Chiesa Cattolica, il pensiero di San Tommaso d'Aquino. In questa lettura di testo che dedicheremo appunto al grande dottore della Chiesa volevo prendere una piccola parte della Somma Teologica è un frammento della Somma Teologica dedicato agli atti umani, quindi il frammento più filosofico, antropologico se vogliamo, che tratta di un argomento specifico, il raggiungimento della gioia, il raggiungimento del gaudio, della beatitudo, come dicevano i latini. E all'interno di questo piccolo frammento, questo che tengo in mano è il volume 8 delle 35 opere come questa che compongono l'intera Somma Teologica e in questo frammento, in queste diverse questio, noi sappiamo che la Somma Teologica è un'opera vastissima in cui San Tommaso d'Aquino non ci deve trarre in inganno il nome, non tanto teologicamente, ma quanto filosoficamente andrà a parlare della teologia. E perché mi è sembrato opportuno mettere al centro un argomento tra le miria di tantissimi che va trattando San Tommaso d'Aquino, mettere al centro proprio la felicità, la gioia. Perché San Tommaso d'Aquino in questo frangente può esserci davvero l'aiuto, può essere davvero l'antidoto a quel soggettivismo, a quell'egoismo contemporaneo che noi ci troviamo a vivere di giorno in giorno e che attraverso le parole di questo grande dottore della Chiesa avremo l'opportunità di riscoprire che vi è un'alternativa. Che non solo, potremmo dire, il soggetto, il soggettivismo che è stato posto al centro nell'epoca moderna, non può raggiungere, ed egli è preclusa, l'accesso alla felicità se il soggetto si chiude in se stesso, se il soggetto rinuncia alla relazione con l'altro. Ma è anche vero che San Tommaso d'Aquino ci consiglia e consiglierà un approccio filosofico, razionale, sul come raggiungere la verità, sul come raggiungere quindi quello stato di beatitudine, quello stato di beatitudine che possiamo raggiungere in quanto esseri razionali, in quanto uomini ed esseri razionali, solo nel pieno possesso della verità. Ovviamente, San Tommaso d'Aquino, spoileriamo già la fine di questo percorso, vedrà solo nella contemplazione dell'essenza divina questo ultimo atto che porta gioia infinita, felicità infinita nel cuore dell'uomo. Ma non è una scoperta teologica questa, ed è questo che è interessante, che attualizza il discorso di Tommaso e lo rende pienamente filosofo, perché Tommaso non viene a legarsi a Dio attraverso un rapporto fideistico, almeno nei passi che leggeremo tra qualche minuto, ma in un rapporto di filosofico ragione, di razionalità. Dio viene scoperto alla fine di un processo razionale e nell'essenza divina si compie il destino dell'uomo. Ma prima di giungere all'ultimo capitolo, che tra l'altro guarderemo se non in volata, è interessante vedere come Tommaso d'Aquino muova una critica ai filosofi moderni. Sembra anticipare le crepe della modernità, sembra anticipare i punti deboli talloni d'Achille, di quelle morali soggettivistiche pienamente moderni, cantiane, se vogliamo, uniciane, nichiliste, di una legge morale semplicemente puramente formale. E andremo a vedere questi talloni d'Achille e andremo ad analizzarli nella loro problematicità. Ma andiamo subito a leggere la prima parte di questo testo. Iniziamo subito a vedere come Tommaso d'Aquino adotti subito un approccio psicologico. Leghi l'idea di beatitudine, di beatitudine, di felicità, all'idea di desiderio, che noi sappiamo diventerà celebre solo in epoca moderna attraverso lo studio, la creazione della psicanalisi ad opera di Freud. L'oggetto nel quale uno stabilisce il suo fine ultimo, cioè la meta del viaggio che è la vita umana, domina totalmente l'affetto di un uomo, poiché da esso questi, dal fine ultimo l'uomo, prende la norma di tutta la sua vita. Infatti, a proposito dei golosi, San Paolo scrive, il loro Dio è il ventre. Vale a dire, nei piaceri del ventre hanno riposto il loro ultimo fine. Ma nessuno, come dice il Vangelo, può servire a due padroni, i quali cioè non siano subordinati tra loro. Dunque è inconcepibile che uno stesso uomo possa avere più ultimi fini non subordinati tra loro. Sant'Agostino ci dice che la scelta dell'ultimo fine non è semplicemente qualcosa che l'uomo può fare, ma qualcosa che deve fare. E qui abbiamo già il primo scontro con l'atteggiamento contemporaneista, con l'atteggiamento di noi contemporanei che pensiamo che l'ultimo fine sia una propria scelta, che si possa vivere senza il fine, senza il concetto di una vita piena di senso, ma che si possa vivere una vita senza senso. Questo l'atteggiamento, ad esempio, dei nichilisti di Nice, che invitava a vivere pericolosamente senza una fine. Qua Sant'Ommaso d'Aquino ci dice, anche nella concretezza con l'esempio del ventre, che non si può vivere senza un ultimo fine, che anche il nichilista avrà il suo ultimo fine in base alla quale indirizzare la propria vita. Un uomo desidera, e qui entra in gioco l'importantissimo soggetto del desiderio. Desidera quale ultimo fine ciò che vuole come bene perfetto e completivo di sé medesimo, poiché ogni cosa desidera la propria perfezione. Sant'Agostino scrive, chiamiamo qui fine del bene, non ciò che si consuma fino a non essere, ma ciò che si perfeziona per essere pienamente. È perciò necessario che l'ultimo fine riempa talmente l'appetito dell'uomo da non lasciare niente di desiderabile all'infuori di esso. Ho letto questo set contra, così si chiamano le risposte che Sant'Ommaso d'Aquino dà alle questio, per far vedere non solo l'aspetto desiderativo dell'ultimo fine, che è l'ultimo fine come causa terminante della nostra felicità, della nostra gioia, ma anche nell'idea che l'ultimo fine debba essere qualcosa che non si consuma, debba essere qualcosa che ci rinnovi costantemente, che plachi indeterminatamente il nostro desiderio. Il desiderio dell'uomo è un desiderio infinito, è un desiderio che una volta procurato come ultimo fine estingue totalmente la sete. E un po' più avanti, Sant'Ommaso d'Aquino continua l'analisi di questa ricerca, di questa tensione antropologica verso l'ultimo fine, verso questa meta che deve completarci, che deve riempirci di gioia, che deve portare a compimento la nostra vita. Deve renderci felici, beati. E fa una critica alla volontà umana. E altro passo di grande accusa verso la contemporaneità, vediamo come Sant'Ommaso d'Aquino, se riletto con le categorie del moderno, diventa un autore attualissimo, che ha trattato già delle patologie proprie, proprie della modernità, proprie del desiderio autocelebrativo dell'uomo, che però non si accorge dalla propria finitudine, in questa tensione. E infatti la critica che fa Sant'Ommaso d'Aquino in questo passo, qui siamo all'interno della terza question, è proprio una critica che muove alla volontà dell'uomo. Affermo dunque essere impossibile che la felicità stessa, nella sua essenza, consista in un atto della volontà. Infatti è evidente, da quanto si è detto, che la felicità è il conseguimento dell'ultimo fine. Ma il conseguimento dell'ultimo fine non è un atto della volontà, poiché la volontà si volge al fine, o per desiderarlo, e rientorno a questa dinamica del desiderio, se assente, o per quietarsi in esso, se presente. Ora è chiaro che il desiderio del fine non è il conseguimento del fine, ma piuttosto un moto verso il fine. È ovvio che viene meno, viene a decadere in questo passo l'idea che l'uomo possa bastare a se stesso. Il mito prometeico dell'uomo autosufficiente, dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo, del Robinson Crusoe, che si è fatto da sé. Questo mito già in Tommaso d'Aquino viene a cadere, perché la volontà dell'uomo non è sufficiente, l'uomo è manchevole. Se l'uomo fosse perfetto, chiuso in se stesso, ecco che l'uomo sarebbe autosufficiente. E così sono gli animali. Per gli animali potremmo dire che non possono essere beati, ma possono, potremmo dire, espletare il loro godimento fisiologico attraverso l'istinto, o l'espletazione degli istinti animali, sono perfetti, perché l'animale non desidera che di sopravvivere, che di procreare la specie, di procrastinare l'esistenza della specie. Invece l'uomo no. L'uomo è un essere desiderativo, l'uomo è un essere imperfetto, l'uomo è un essere manchevole, e la volontà non basta a renderci felici, non basta a farci raggiungere quella beatitude. Questa è l'illusione. Ci dice Santo Maso d'Aquino, ci direbbe Santo Maso d'Aquino se fosse nato oggi, è l'illusione delle grandi società contemporanee. E andiamo avanti, andiamo quasi alla fine di questo ottavo libro della Somma Teologica. Iniziamo a trattare il tema della beatitudine, della felicità, legato però al problema del male, legato al problema del malvagio. E qui ci possiamo chiedere la domanda che si pone nell'articolo 8 della Questio Quinta, Santo Maso d'Aquino si chiede, ma ogni uomo desidera la beatitudine? Anche coloro che sono stati dannati, anche coloro che sono finiti all'inferno, potremmo dire, anche loro desideravano la beatitudine? Desideravano la felicità? La risposta di Santo Tommaso d'Aquino qui è ambigua, perché dipende, e qui entriamo nel profondo, dipende da cosa intendiamo per beatitudine. Ci dice Santo Maso, la beatitudine può essere considerata in due maniere. Primo, partendo dalla nozione universale di felicità. In questo senso è necessario che ciascun uomo desideri la beatitudine. Infatti la felicità in genere consiste nel bene perfetto, come abbiamo spiegato. Ed essendo il bene l'oggetto della volontà, quel bene che totalmente sazia la volontà di un uomo, è per lui il bene perfetto. Perciò desiderare la beatitudine non è altro che desiderare l'appagamento della volontà, e questo tutti lo vogliono. Secondo, possiamo parlare della beatitudine considerando la sua nozione specifica, il rapporto all'oggetto in cui essa consiste. E allora non tutti conoscono la beatitudine, perché non sanno a quale oggetto si applichi la nozione universale di felicità. Di conseguenza in questo senso non tutti la desiderano. La beatitudine, ci sta dicendo Santo Maso d'Aquino, può avere due aspetti sul piatto della bilancia. Da un lato possiamo considerare la beatitudine quale, nella sua forma, nel suo aspetto desiderativo, psicologico. L'animale, l'uomo è un animale manchevole, è un animale che desidera, e se la beatitudine viene vista dall'uomo come all'appagamento di questo desiderio, quindi nella sua entità formale desiderativa, allora sì, l'uomo vuole quella beatitudine. Anche il malvagio, anche l'assassino, vede nel suo gesto folle il tentativo di appagare questo desiderio, il tentativo di raggiungere questa beatitudine. Ma dall'altro, nel contenuto della beatitudine, quindi quando noi ci dobbiamo chiedere, ma questa beatitudine che cos'è? Ecco che allora molti non riescono a vedere che cos'è la beatitudine, la confondono. Subentra quello che Sant'Agostino chiamava il disordine morale. Anche l'omicida, anche l'assassino nel suo gesto folle desidera appagare il desiderio, ma lo appaga in una maniera appunto folle, maniacale, anteponendo il suo gesto ad altri beni superiori, ponendo nel suo atto l'ultimo fine, il fine che dovrebbe appagare il suo desiderio. È qui che sta il male, è qui che subentra il male, ci dice San Tommaso. Subentra nel disordine, subentra nel ritenere che la beatitudine ci verrà da una fonte miserevole, da una fonte finita, da una fonte umana. Ci verrà anche solo semplicemente dalle nostre mani. E qui tornerai un attimo indietro, perché un po' prima San Tommaso d'Aquino parlava proprio del... e muoveva una critica proprio al soggettivismo, che è l'atteggiamento di noi moderni, di noi contemporanei, di concepire l'atto di gioia, di concepire la felicità. Dice San Tommaso, l'argomento potrebbe valere se l'uomo fosse l'ultimo fine di se stesso. Cos'è l'argomento? L'argomento è trovare la felicità. L'uomo può darsi la felicità da solo? L'uomo può darsi la beatitudine da solo in questo gesto autoreferenziale? San Tommaso dice sì, sarebbe possibile se l'uomo fosse l'ultimo fine di se stesso, come nel caso degli animali. Allora la considerazione e la disciplina delle proprie azioni e passioni potrebbe essere la sua felicità. Quindi la sottomissione alle sue passioni fisiche carnali potrebbe essere la sua felicità. Ma siccome l'ultimo fine dell'uomo è un bene estrinseco, e cioè Dio, raggiungibile mediante l'operazione dell'intelletto speculativo, è evidente che la beatitudine dell'uomo consiste più nelle operazioni dell'intelletto speculativo che in quelle dell'intelletto pratico. Ecco, più che soffermarci, come abbiamo visto, sull'idea di Dio, sull'essenza divina, che è la meta finale a cui condurrà la speculazione tomista, soffermiamoci tanto sul fatto che l'uomo non deve dimenticare di essere in tutto e per tutto un essere razionale, in cui domina l'intelletto a dispetto a confronto della stessa volontà. Quindi la felicità non sta semplicemente nell'appagamento desiderativo delle nostre passioni carnali, animalesche, quindi nell'appagamento della nostra parte pulsionale, che come vedremo alla fine Tommaso non discrimina, non mette semplicemente da parte. Tommaso era tutto, potremmo dire, tranne che un bigotto da quel punto di vista, sapeva bene, ma lo vedremo alla fine del nostro percorso che l'uomo ha bisogno anche del piacere carnale fisico, corporale. Ma l'essere umano è prima di tutto un essere razionale, che la ragione, ciò che lo distingue, come diceva Aristotele, è la differenza specifica che ci distingue dall'animale. Quindi anche la nostra parte desiderativa pagativa deve essere mediata dalla ragione, se no scadiamo nell'ambito animale. E qui un altro piccolo passo in cui ribadisce Tommaso che la felicità, la beatitudine non può essere data all'uomo dal bene creato. Il desiderio delle ricchezze naturali non è illimitato. Ecco perché non ci può portare questa beatitudine. Poiché in una data quantità esse colmano le esigenze della natura. Quindi le ricchezze giustamente ci appagano in una certa quantità. È infinito invece il desiderio delle ricchezze artificiali, perché esso è schiavo della concupiscenza disordinata, come fa notare Aristotele. Tuttavia il desiderio delle ricchezze non è infinito come quello del bene supremo. Infatti quanto più perfettamente il sommo bene si possiede, tanto più si ama. E si disprezzano gli altri beni, poiché un maggior possesso ne accresce la conoscenza. Perciò sta scritto, quei che mi mangiano avranno ancora fame. Invece si verifica il contrario nel desiderio delle ricchezze e di qualsiasi altro bene temporale. Difatti quando si possiedono non si apprezzano e se ne desiderano sempre di nuovi. Secondo quelle parole del Signore applicabili ai beni temporali, chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. E qui abbiamo, potremmo dire, l'ultimo disvelamento contro la ricchezza. La ricchezza viene criticata fortemente da Santo Maso d'Aquino perché è un bene che è finito, che non ci appaga infinitamente. E noi potremmo dire micraniosamente, vedendo nel fine ultimo, come fa purtroppo tanta gente, il desiderio ultimo della nostra vita, iniziamo a desiderare continuamente ciò che non ci può appagare. Tanto che dice Santo Tommaso d'Aquino, se noi desideriamo Dio, Dio ci appaga infinitamente. Ma non tanto perché è Dio. Questo noi lo sperimentiamo mondanamente nell'amore carnale per l'altra persona, nell'amore passionale. Quando amiamo l'altra persona, lì troviamo una fonte che ci appaga. Ed ecco che quando siamo innamorati, ogni altro desiderio scende in secondo piano. Quando ci innamoriamo di una persona, non guardiamo più agli altri beni. Tutto si convoglia lì. Tutto si convoglia nell'altro, nell'altra persona, nell'amato. Mentre nella ricchezza, quindi nel bene materiale, nella materialità, nelle ricchezze che sono il mezzo, pur sempre potremmo dire rispettabile per rendere dignitosa una vita, se lì poniamo il nostro fine ultimo, ecco che allora subentra un'altra dinamica. Subentra la dinamica del desiderio micragnoso di ciò che ci consuma, di ciò che non ci appaga, di ciò che non ci rende liberi e di ciò che anziché donarci libertà, che donarci la verità, ce ne priva. E qui finiamo, e volevo finire questa lettura di testo appoggiandomi non tanto più sul volume 8, ma leggere un pezzettino del volume 9, che tratta sempre delle stesse questie, è una prosecuzione dell'ottavo volume, tratta delle questie dalla 22 al 48. E c'è un'interessantissima risposta che dà Tommaso d'Aquino ai piaceri corporali. Perché qui vediamo invece la posizione della Chiesa, anche la posizione cristiana, come dovrebbe interpretare la lucidità del pensiero tomista nell'interpretare il consumo e l'uso dei piaceri corporali, che non è semplicemente una visione, potremmo dire, neoplatonica, quindi il corpo come prigione dell'anima e quindi la fustigazione del corpo corrisponde alla salvezza dell'anima, ma invece è una visione estremamente mondana che ci potrebbe anche fare sorridere per certi lati. Infatti nel piacere corporale così si esprime appunto Sant'Omaso con queste parole. Nessuno può vivere senza certi piaceri sensibili e corporali, sorprendendo coloro i quali insegnavano che tutti i godimenti sono cattivi a godersi, e qui Santo Masoro quindi si riferisce agli stoici, quindi al pensiero pagano che voleva nell'ascesi completa vedere il bene, ma anche ai neoplatonici che avevano intrapreso questa strada. Riprendiamo, sorprendendo coloro i quali insegnavano che tutti i godimenti sono cattivi a godersi qualche piacere, gli uomini dovevano sentirsi incoraggiati dal loro esempio, mettendone da parte la dottrina, poiché nelle azioni e nelle passioni umane in cui l'esperienza ha tanto peso muovono di più gli esempi che le parole. Cioè questi maestri, questi filosofi che predicavano bene poi razzolavano male, ci dice Sant'Omaso d'Aquino, e i loro allievi quando vedevano che questi uomini predicavano l'astensione totale dai piaceri, godersi vari piaceri, poi è ovvio che trascinavano nel baratro tutti i loro discepoli. Così anche in campo morale ci sono dei piaceri buoni, quando l'appetito superiore e inferiore si acquieta in ciò che è conforme alla ragione, e ci sono piaceri cattivi quando esso si acquieta in ciò che contrasta con la ragione o con la legge di Dio. È una visione molto equilibrata quella di Tommaso, quindi. Il piacere è un mezzo, il piacere è un fine. Non è il fine ultimo, ci dice Tommaso. In un'altra parte Tommaso dirà la felicità, la beatitudine finale deve essere accompagnata dal godimento, tanto che nella nostra relazione con Dio ci sarà un estremo godimento. Basti pensare alla visione mistica, al rapporto che l'uomo intrattiene con la divinità. Questo piccolo itinerario all'interno della felicità della beatitudine, così come viene illustrata da Sant'Ommaso d'Aquino, e con queste parole spero di aver dato anche una visione a volte di questo pensatore più mondano, più vicino a noi, contemporanei e moderni, che tante volte facciamo fatica ad addentrarci all'interno di testi scolastici, delle summe teologiche, di una filosofia che, appartenente a secoli trascorsi, ha avuto la sua storia, ha avuto il suo tramonto, ma nella persona di Sant'Ommaso d'Aquino, se abbiamo la pazienza di districarci all'interno di questi testi, ci possono ancora dare tanti spunti interessanti di riflessione per noi contemporanei. Io spero che la lezione e la puntata ti sia piaciuta, noi ci sentiamo in una prossima lettura di testo, e intanto grazie mille.